Antonella Mosetti finita in ospedale Trattato di una semplice colica, anche se solo chi ci è passato può sapere quanto dolore possa arrecare Adesso le condizioni di salute della Mosetti sono migliorate, anche se la colica è da tenere sempre sotto controllo, soprattutto per gli strascichi che può lasciare Ultimamente Antonella è stata al centro del gossip per una discussione avuta con Carina Cascella, la quale ha criticato aspramente la figlia Asia Nuccetelli Probabilmente anche questo piccolo sfogo avuto con l'ex opinionista di uomini e donne non ha giovato al proprio stato di salute Per il momento, la Mosetti dovrà pensare solo a tornare in forma lasciando questo spiacevolissimo episodio alle spalle Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale, grazie 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 Grazie